Simone Romagnoli facciamoci invece spiegare da lui cosa è successo nel finale abbiamo visto insomma ti abbiamo visto andare a terra uno scontro con un avversario tante proteste che cosa è successo purtroppo durante il contropiede diciamo che sono stato atterrato in stile rugby e quindi purtroppo la cosa non è stata vista e quindi è andata così però succede quindi pensiamo già alla prossima partita che è tra molto poco e comunque pensiamo di aver fatto una grande prestazione magari meno spumeggiante per via insomma di come si era sviluppata la partita ma comunque un'ottima prestazione anche perché siamo stati puniti di fatto nell'unica vera azione importante che il Venezia ha fatto al di là del fallo che c'era su di te forse l'unica concessione reale che la difesa azzurra oggi ha fatto all'avversario sì beh concessione perché sono stato atterrato altrimenti non sarebbe stata una concessione quindi c'è poco da dire insomma abbiamo fatto un'ottima partita in fase difensiva in cui con molta attenzione non era neanche facile perché la partita si prestava insomma al rischio di ripartenze letali e quindi sono stati tutti quanti molto bravi ad arginare questa cosa e quindi insomma sappiamo insomma che siamo in una fase ancora di costruzione e dobbiamo essere consapevoli che stiamo facendo dei passi avanti e quindi continuare così e sicuramente poi questi episodi appunto cioè sono episodi quindi cioè è andata così ma preso per quello che è insomma sì purtroppo guardiamo avanti e basta come diceva prima il mio collega amico Alessio Cocchi chiedeva a Vivarini se tornare in campo subito può essere un vantaggio lo chiedo io a te questa cosa sicuramente sì perché c'è un po' di rabbia come è normale che sia e quindi abbiamo la possibilità subito di rifarci era forse lo 0-0 il risultato più giusto oggi perché loro hanno fatto molta fatica noi bravi dietro però anche loro bravi dietro a chiudersi bene ci hanno concesso poco negli ultimi 16 metri laddove noi spesso e volentieri siamo letali sì loro si sono chiusi molto bene e noi abbiamo avuto un'occasione clamorosa e nel primo tempo e qualche altra buona situazione e quindi qualcosina in più sicuramente abbiamo creato noi però sì insomma comunque loro hanno fatto una buona partita difensiva aspetto mentale si sa che nel calcio conta molto una sconfitta diversa da questo punto di vista rispetto a quella subita con Cittrella ma soprattutto subita contro l'Avellino qua la squadra bene o male è sempre rimasta sul pezzo durante l'arco della gara non c'è stata quell'amnesia che anche a Chiavri nonostante l'abbiamo vinta la partita c'era stata in una fase precisa del match infatti secondo me è un passo avanti nella fase di costruzione per questa squadra e va letta così questa partita perché al di là di questo episodio che sicuramente non ricapiterà perché è una cosa anche abbastanza evidente diciamo però la squadra ha dimostrato di esserci per tutti i 90 minuti di giocare sempre, di essere attenta a non prendere contropiedi comunque di cercare di creare contro una squadra molto chiusa e in realtà poi quest'anno in Serie B ci sono tante squadre che giocano e quindi che si aprono quindi situazioni del genere non se ne incontrano tantissime insomma questo oggi è stato così però poi tante altre squadre qui giocano e quindi permettono di esprimerci in fase offensiva in modo più semplice magari per noi quindi insomma dobbiamo prendere tutte queste cose positive e continuare a pensare positivo e a cercare di migliorarci Che perché comunque la classifica dice che Limpoli è ancora al primo posto sebbene in una classifica davvero strana no? Qui come la guardate e come la vedete insomma? Ma secondo me non è da guardare perché essere primi ma con tutte le squadre a un punto anzi è peggio pensare siamo primi quando le squadre sono tutte lì quindi non va assolutamente guardata noi siamo al di là della classifica in una fase di costruzione di qualcosa di molto importante e di molto bello dobbiamo essere consapevoli che possiamo veramente costruire insieme qualcosa di grande però passa dalla convinzione, dal crederci sempre e dall'andare oltre episodi come quello di oggi Senti per chiudere dopo 10 giornate un quarto di campionato qual è il tuo personale bilancio fin qua? Ottimo direi assolutamente ottimo considerate le premesse di quando sono arrivato era una situazione veramente particolare di una grossa rivoluzione in atto quindi una situazione molto difficile però c'era una grande idea nella testa di tutti a partire dai dirigenti di indirizzare le cose verso un certo binario e ci siamo su questo binario e dobbiamo continuare a percorrerlo Grazie a tutti